Mi ci trovo bene. Io non voglio più lasciarla, sta villa. La voglio bene. Le mie bamboline stanno con me, però la bravura è questa. Vedi, non mi odia nessuno, quindi... È la cosa più bella che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Ma ecco l'ultima alba sulla villa. E per i ragazzi è arrivato il momento di lasciarla. Comunque, nonostante quel poco, ho soddisfatto nel mio piccolo, del mio breve percorso. Quei pochi istanti ho fatto sì che comunque i ragazzi avesse un bel ricordo di me. Mi piace divertirmi, quindi continuo col mio mood. Mi ci trovo bene. Ho lasciato la dignità. Cioè, io non voglio più lasciarla, sta villa. Cioè, io vorrei un uomo nella mia vita che se che mi ascolti, o che mi avete ascoltato voi in questi giorni. Lo voglio bene. Uno di noi, sono andato uno di noi. Vabbè, ragazzi, io mi sono presentato come il fuckboy e sono rimasto tale, quindi le mie bamboline stanno con me. Però la bravura è questa. Vedi, non mi odia nessuno, quindi... Bisogna saperci fare. Quindi sono felicissimo. Ovviamente è inevitabile avere qualche inciuccio strano. E vabbè, ragazzi, questo è Xoneficcia. Il mio amico Provo è contento di questa esperienza perché anche lui ha capito che bisogna ragionare col cervello, ma saperlo anche usare... Mi mancherà, mi mancherà questo mondo di pazzi perché siamo un mondo di pazzi. È la cosa più bella che io abbia mai fatto in tutta la mia vita. Rido e piango, non ci sta accadendo più niente. È un colpo al cuore di tornare a Roma per me. Non mi vengono le parole a te con questo momento. Hai ragione, Giordano. È difficile trovare le parole giuste per raccontare la fine di X on the Beach. E allora facciamo così. Restiamo in silenzio. Non mi vengono, non mi vengono, non mi vengono. Non mi vengono, 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 non mi vengono Sassia, il tablet del terrore ti comunica ufficialmente che hai scritto la storia di Ex on the beach. Ora saluta la villa come solo tu sai fare. Grazie cazzo, grazie, grazie! Sono Sassia e sono Lex di Luana. Sassia e sono e paqu�로 continuare di recuperare del paraguas. E' questafaced la storia di Ex on the beach esper видим che non lo ha salvato... Piazza! Grazie! Grazie!